Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta intensificando su strade e autostrade della Toscana. Possibili disagi, na uno è un'uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna, sulla Firenze Mare tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione di Firenze e in Fipili tra la Strassigna e Firenze Scandici ancora una volta verso il capoluogo. Siamo al traffico urbano di Firenze, quest'anno il Giro d'Italia fa tappa nel capoluogo, l'undicesima tappa. Questa mattina partirà infatti dal Museo Bartali di Via Chiantigiana per proseguire poi verso Bagno di Romagna. Modifiche alla circolazione per le strade interessate dal percorso, deviazioni per diverse linee ATAF e dalle 9 sarà chiuso il Viale dei Colli. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Grazie a tutti!